cari fratelli e care sorelle la pace del signore gesù sia con tutti voi quella stessa pace e quella stessa gioia che elisabetta ha provato nell'udire la voce di maria quella voce sublime e dolce che apre il cuore e fa penetrare in esso la grazia di dio quel dio uno e trino che in maria ha preso dimora dimorando in lei per l'eternità e donando a noi suoi figli l'essenza e la sostanza del suo frutto il verbo di dio fatto carne gesù il cristo il figlio del dio vivente unico salvatore del mondo la voce di maria cari fratelli possa penetrare anche oggi e ancora di più in questo tempo nei nostri cuori per renderci vivi e saldi nella fede in cristo signore in questo tempo di prova e di apostasia dilagante come maria nuova gerusalemme meta e approdo finale del nostro cammino e della volontà di dio cuore sicuro dove poter trovare rifugio e riparo come lei lasciamoci plasmare dallo spirito del dio vivente per divenire come egli è rinnovati nel cuore e nell'anima maria la dolce sposa dello spirito santo creatura pura e santa che ha accolto la volontà del padre con mitezza e umiltà nella purezza e nella santità nell'amore e nella gioia per far consistere tutti nell'unione inscindibile con suo figlio con lei che fedelmente ha rinnovato il suo sì quotidianamente divenendo corredentrice universale unita al figlio redentore che con la grazia del padre tutto opera per il nostro bene e per il bene di tutti gli uomini e le donne di buona volontà cari fratelli come elisabetta sussultato di gioia nel vedere nell'udire maria anche noi quando abbiamo messo piede in questa terra d'amore abbiamo gioito quando abbiamo conosciuto la fanciulla di dio maria giuseppina norcia perché anche noi abbiamo potuto sperimentare in quel momento l'amore la pace e la dolcezza nel suo parlare nel suo guardare nel suo sorridere riconoscendo in lei gli stessi sentimenti di maria santissima anche maria giuseppina norcia ha donato il suo sì al signore rinnovandolo quotidianamente e rimettendosi alla sua divina volontà domani ci apprestiamo a vivere il giorno delle nozze col cielo il giorno in cui la fanciulla di dio ha accolto nel suo cuore il progetto di redenzione di amore del padre per l'umanità affidandosi con cuore e volontà nelle sue mani nelle mani del suo e nostro creatore che la guarita nel corpo ridonandole uno spirito nuovo e rinnovato nell'unico amore che salva questo è ciò che ogni cristiano sull'esempio di questa fanciulla è chiamato a fare mettere al primo posto dio e la sua chiamata far comprendere conoscere la vera fede e testimoniare cristo nella propria vita come sacerdote re e profeta così come viene proclamato nel battesimo ecco che ripieni dello spirito e della luce di cristo si procede in questo itinerario che deve condurre tutti ad incontrare il figlio di dio nuovamente sceso in questa culla dove ancora una volta maria gratuitamente lo ha donato al mondo intero venite e vedete venite e credete venite e adorate il re della vita colui che vi fa e farà sussultare di gioia e sentirete ardere nel cuore la fiamma del suo vivo amore che vuole amarvi e benedirvi per l'eternità uniti a maria della nuova gerusalemme cantiamo e gioiamo cari fratelli preghiamo e amiamo per ringraziare il padre buono e santo per averci chiamato in quest'isola d'amore per divenire insieme a lui protagonisti e non spettatori del suo santo mistero d'amore che porterà pace e santità a tutti coloro che lo vorranno accogliere e lodare in te padre vogliamo vivere e amare come ha vissuto vive e ama maria per essere docile la tua volontà e divenire così figli buoni e retti per poterti riconoscere sempre e come la nostra maria disponi della nostra vita come tu vuoi padre di eterna bontà e padre di eterna giustizia e così sia dio padre onipotente benedica noi tutti nel suo santo nome di padre di figlio e di spirito santo